Viva la stagione! Incredibile talento di questo ragazzo, ha un debutto convincente, pura proprio il giovane Hunter non abbia intenzione di rallentare. E con questo è tripletta, tre gol per lui, se la ricorderà a lungo questa gara. L'allenatore sembra ormai aver abbandonato l'idea di portare a casa la vittoria.